Amici del software libero open source, benvenuti in questa 49esima puntata del podcast di Marcos Box. Iniziamo la settimana con una triste notizia che arriva dalla community di Peppermint. Peppermint sapete bene che cos'è, è una derivata di Ubuntu pensata per essere una distribuzione leggera, facile da utilizzare, con alcune chicche davvero interessanti perché alcune applicazioni, alcuni tool che sono stati sviluppati in casa per l'installazione rapida di browser e quant'altro, oppure degno di nota, molto degno di nota, è l'integrazione con le web app all'interno del sistema operativo. Che poi erano state anche, diciamo così, prese come spunto per l'utilizzo in Manjaro. Non so se vi ricordate che su Manjaro prima era preinstallata la possibilità di utilizzare la web app di Office Online. Bene, che cos'è successo? È successo che il project leader di Peppermint, Mark Reeves, nonché amministratore delegato e principale sviluppatore della distro, è deceduto all'inizio mese. La notizia è stata comunicata alla community da parte dei figli di Mark, che hanno poi dato la notizia pubblicamente. Mark è deceduto dopo una licenza in ospedale di 10 giorni. Questa notizia ha ritestato molto la comunità, ma anche tutti quelli che hanno incrociato in una maniera o nell'altra Mark Reeves, che era comunque un ottimo programmatore e un ottimo project leader. Ma se avete utilizzato anche la distribuzione, di sicuro l'avete incontrato nei forum e quant'altro. E riposo in pace, è davvero una notizia triste. Passiamo alle notizie un po' più allegre, per così dire. Huawei ha annunciato il rilascio del codice sorgente di Open Airware, la sua distribuzione Linux basata su CentOS. Il codice sorgente di Open Airware è disponibile su GT, penso che si pronunci così perché è una piattaforma cinese, che non è altro che la controparte cinese di GitHub. Facciamo un po' di storia di questa distribuzione. Che cos'è? La distro nasce nel 2016, quando Huawei ha ottenuto la certificazione Unix per Airware 2.0, che è una distribuzione basata su CentOS e nasce come distro commerciale pensata per le applicazioni aziendali. Successivamente Huawei ha reso Open Source Airware OS e ha rilasciato tutto con il nome di Open Airware. La stampante che serviva da sola diceva, ha rilasciato tutto sotto il nome di Open Airware. Open Airware è pensata per l'architettura ARM64 e X86. Se state lì per correre a scaricarla, mettete un freno perché Open Airware è rivolta al mondo aziendale, non è pensata per il pubblico domestico, per il pubblico desktop. Comunque, volendo potete scaricarla e provare in ambiente aziendale. C'è il link su Marcosbox alla distribuzione. Vi dovete armare di tanta pazienza perché sono mirror cinese, quindi ci metterete una vita per scaricarlo. Su GTI, che è appunto, dicevamo, la controparte cinese di GitHub, il codice sorgente è disponibile sotto due repository, uno dedicato appunto al codice sorgente e l'altro relativo ai pacchetti software che stanno su questa distro. Andatevi a vedere se vi interessa. Notizie invece dal mondo di XFSE. Il rilascio della versione 4.14 è stato lunghissimo. Successivamente al rilascio della versione 4.14, il team di XFSE ha deciso di dare una botta di velocità allo sviluppo di XFSE e quindi ha deciso di iniziare subito i lavori per la prossima versione stabile, che è la 4.16, che dovrebbe arrivare a stretto giro. Stretto giro nel senso fra, se non ricordo mai, fra qualche mese. Uno dei principali cambiamenti dell'interfaccia utente di XFSE che il team di XFSE ha annunciato di voler appunto entregare nel ciclo di XFSE della 4.16 è il passaggio alle GTK headers bar, ovvero alle cosiddette decorazioni lato client, le CSD per gli amici. Il primo grande passo in questa direzione adesso è venuto, grazie all'inclusione del codice, nella libreria Lib XFSE 4 UI. Con questa modifica, quasi tutte le finestre di dialogo verranno convertite in CSD per impostazione predefinita e senza alcuna modifica del codice nei progetti esistenti. Utilizzando questa soluzione ci sono anche una serie di vantaggi per gli sviluppatori come le aree di dimensionamento migliorate, temi più coerenti e quant'altro. Simon Stain Bay, quella lettera di che c'è alla fine, perché non so come si pronuncia, che è uno dei principali sviluppatori di XFSE, ha postato sul suo blog lo stato dei lavori una serie di screenshot che mostrano l'aspetto delle CSD su XFSE 4.16, fratto sia con il tema Greybeard che con il tema a due ita sia chiaro che scuro. Quindi andate magari ad approfondire la notizia. Restando in ambito XFSE, c'è stata questa settimana l'annuncio della versione 4.8 di Linux Lite, che è una derivata di Ubuntu, Ubuntu LTS nella fattispecie, basata su XFSE. Il rilascio di questa distribuzione inizialmente era previsto per il primo febbraio, però è stato anticipato in modo talco da far coincidere l'annuncio del rilascio con la fine del ciclo di vita di Windows 7, perché, come ben saprete, qualche giorno fa c'è stata, diciamo così, la deadline imposta da Microsoft per il ciclo di vita di Windows 7, quindi non verranno forniti più aggiornamenti di nessun tipo. Ed è proprio agli utenti di Windows 7 che Jerry Bezencon, il creatore di Linux Lite, si rivolge con l'annuncio del rilascio di Linux Lite 4.8, invitando tutti gli utenti Windows a compiare il grande passo e a cambiare il sistema operativo passando a Linux. Nella fattispecie. Passando a Linux Lite. ha fatto un post sul forum ufficiale di Linux Lite, elencando tutti i software alternativi, sia le controparti, diciamo così, di software commerciali, ma anche quelli software che sono disponibili multiplattaforme, che quindi, se volete fare il passaggio su Linux, non vi sentirete orfani, avrete comunque moltissimo software che magari già utilizzate su Windows. Per maggiori informazioni, trovate il link su Marcosbox. C'è stata poi una notizia da parte di Canonical riguardante la decisione di rimettere mano al tema di default che troviamo su Ubuntu. Per Ubuntu 20.04 LTS avremo un nuovo tema, o meglio, nuove varianti del tema Yahoo. Che cosa hanno deciso di fare? ha deciso il tema di Canonical che si sta occupando del brand e quant'altro, di ridurre l'abbondanza dei colori utilizzati per il tema, rendendo, virando tutto su alcuni colori base, quindi via il verde che eravamo abituati per, ne so, barre di scorrimento, pussanti, selettori, eccetera, eccetera, e si passerà al melanzana tipico di Ubuntu. Altre novità che vedremo su Yaru è che verrà introdotta tre versioni, Yaru Lite, che è una versione completamente chiara, Yaru Lite, diciamo, li avevamo già visti anche con il ciclo di sgruppo della 19.10, perché su Marcosbox, non so se vi ricordavate, avevo postato alcuni screenshot di questo tema chiaro che era apparso quando c'era stata la migrazione del tema Yaru al codice di Adwaita, perché adesso il tema Yaru è legato a stretto giro con il tema Adwaita, quello di default di Gnome. Quindi avremo questo tema completamente chiaro, Yaru Lite, Yaru Dark, che è il tema scuro, e Yaru Standard, che è una, diciamo, quello lì che già abbiamo come tema di default sulle ultime versioni di Ubuntu. C'è stato anche l'interessamento da parte di Canonica di aggiungere un tool che molto probabilmente verrà introdotto, perché non è chiaro se ce la faranno in tempo ad introdurre, anche se penso che alla fine si potrà fare semplicemente, la possibilità quindi di poter scegliere tra queste tre varianti del tema Yaru direttamente nelle impostazioni. Quindi, dall'impostazione di Gnome cambiare tema con un click. Se non ricordo male, questa soluzione già è stata implementata su, come si chiama, su PopOS, su ultime versioni di PopOS, ma non vorrei dirvi una questione perché ricordavo che era stata implementata una cosa del genere su PopOS. Devo andare a verificare ma mi sembra che comunque era già stata implementata quindi alla fine si tratterà soltanto di riadattare tutto. In futuro il team che si sta occupando di questi lavori di ammodernamento del tema vorrebbe anche cambiare, dare la possibilità di cambiare il tema di Gnome Share sempre con un click senza dover fare la disconnessione della sessione quindi riavviare tutto. Anche le icone molto probabilmente verranno ritoccate. Stanno valutando una serie di modifiche al tema di icone sperimentando alcune icone alternative per le cartelle che mirano sia a preservare l'identità di Ubuntu ma anche mantenere un buon contrasto sia nella variante chiara che nella variante scura. Vedremo che cosa combineranno. una notizia che non ho postato su Marcosbox ma è stata postata sulla community di Marcosbox sul canale Telegram che vi invito tutti quanti ad iscrivervi riguarda una notizia che arriva da Mozilla Mozilla ha dovuto licenziare almeno 70 dipendenti per problemi economici che è successo? Succede che in casa Mozilla si sono accorti che i tentativi di monetizzare con progetti alternativi ad esempio la VPN che era stata annunciata qualche tempo fa e altre cose non sono andati in buon porto nemmeno i tentativi di monetizzazione con i motori di ricerca sapete bene che Mozilla è legato a stretto giro a Google che finanzia l'incursione dei motori di ricerca e quant'altro e quindi che è successo? è successo che in virtù di queste ristrettezze economiche hanno deciso di operare alcuni licenziamenti non ben precisati si parla di 70 ma potrebbero essere anche di più e quindi di diciamo così con quello che si risparmia continuare a investire invece in ricerca e sviluppo per creare nuovi prodotti innovativi che magari possono generare un fatturato quindi speriamo che che questo non significhi che una grande purga di dipendenti da parte di Mozilla che si limitino soltanto a questi 70 e speriamo che Mozilla nei prossimi mesi nei prossimi anni riesca a monetizzare un po' di più riesca a raccogliere più fondi per mantenere aperta lo sviluppo del browser perché di fatto è rimasto l'unico browser alternativo vivo la resistenza verrebbe da dire che non fa uso di Chromium come base e di proprio di ieri la notizia se mi state ascoltando o meglio di giorno 15 la notizia perché non so quando mi ascolterete il podcast che è stata appunto rilasciata la versione stabile di Microsoft Edge basato su Chromium per Windows quindi oramai sono tutti basati su Chromium Mozilla è l'unica alternativa l'unico cavaliere bianco che combatte ancora con il suo engine con il suo motore di rendering con le sue innovazioni con la sua attenzione alla privacy e alla sicurezza degli utenti mentre altri se ne fottono altamente speriamo appunto speriamo che in futuro non ci siano brutte notizie per Mozilla bene con questa notizia ho concluso ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box lunga vita e prosperità a tutti quanti ciao ciao grazie a tutti Grazie a tutti.